Massima solidarietà a Michele Santoro che ha fatto il suo mestiere come sempre con grande professionalità. Massimo apprezzamento e affetto ai volontari della protezione civile, ai tanti che si sono impegnati in queste ore difficili e che hanno dato un contributo prezioso in quel panorama di devastazione che abbiamo visto tutti. Massimo disappunto per chi continua a negare le proprie responsabilità. Abbiamo visto e letto comunicati dei vertici della protezione civile che dicevano a poche ore dalla scossa di domenica che tutto era sotto controllo. Invece nulla era sotto controllo, non era stata né immaginata né attrezzata un'evacuazione della popolazione. Quei 300 morti forse sono anche in parte il prezzo di questa sottovalutazione. noi vorremmo che il principio di responsabilità in questo paese si applicasse non soltanto stringendoci tutti attorno a chi ha sofferto e chi continua a soffrire, ma anche pretendendo responsabilità precise e che ciascuna coppa abbia finalmente il suo colpevole. perciò in fucipitale. Perciò in espiare alla scorpione. ... Grazie a tutti.